Amici di QDP, ormai da qualche settimana si è insediato nella nostra redazione il nuovo direttore Sergio Zanellato. Una vita nel giornalismo, poi una piccola pausa e adesso è ritornato qui in un gruppo che è formato prevalentemente da tanti giovani. Sono praticamente rinato, anzi sono riusciti a fare l'impresa impossibile di darmi nuova vita perché ho scoperto di avere una squadra estremamente motivata. Essere giovani non sempre è la virtù ma loro sono virtuosi nel senso che ci mettono entusiasmo, cuore e competenza. Sono giovani, fanno già miracoli e spero che continuino a farli. Quali sono i contributi che lei darà a questo giornale? Che cosa insegnerà a tutti i ragazzi della squadra? Per il momento sto imparando io, per cui non è tanto per dare risposta, prenderla un'ora larga, è che io dopo 40 anni di giornalismo ho scritto, qua sono per fortuna ho la consulenza di Fulvio Fioretti che mi ha accompagnato per tanti anni al gazzettino e vedo che è un mondo molto diverso. Forse sarà utile la mia esperienza il fatto di essere vecchi qualche volta serve. Questo penso soprattutto perché in questi giorni ho visto un entusiasmo che li scatena. Qualche volta è difficile stargli dietro. Al giorno d'oggi si dice che tutto ciò che non viene raccontato non esiste, quindi i giornalisti, tutti i giornalisti hanno delle grandi responsabilità. Ecco sarà suo compito proprio dare a tutti noi delle linee guida per raccontare correttamente le cose. Due cavalli di battaglia sono questi, la completezza dell'informazione ma anche la velocità. Sì, non ci sono dubbi perché vedo ecco che qualche volta stiamo facendo per scrupolo qualche rallentamento nella pubblicazione delle notizie perché abbiamo paura di pubblicarne troppe. Invece le notizie non sono mai troppe. Vedo che abbiamo ancora qualche peccatuccio di esperienza ma se non lo avessimo vuol dire che saremo già in pensione come giornalisti. È un pensiero per tutti i nostri lettori, i lettori di QDP? Continuate a seguirci, fate passare la parola dicendo che è un giornale affidabile e ogni tanto mandate qualche complimento ai ragazzi che si meritano perché ci mettono il cuore.